Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e oggi con me c'è Cristina Occhino. Benvenuta a Radio SBS. Grazie, grazie per avermi qui con voi. Cristina è una studentessa di italiano, eccellente studentessa di italiano oserei dire, che ha vinto uno dei premi della società Dante Ligieri di Melbourne e che ci racconta oggi un po' il suo rapporto con la lingua italiana. Allora innanzitutto il nome si fa intuire insomma il fatto che tu abbia una origine italiana. Raccontaci un po' da dove viene la tua famiglia. Sì, allora i miei nonni sono venuti qui dalla Sicilia e quindi a casa crescendo ho sentito sempre il siciliano, quindi sono cresciuta con la lingua siciliana e quindi questo mi ha aiutato anche con gli studi di italiano. Ma parlavi dialetto o lo capivi soltanto? Io non lo parlavo ma lo capivo, però quando ho iniziato a studiare l'italiano dicevo delle frasi e ho incominciato a parlarlo. Ecco, è stato un vantaggio sapere già un po' il dialetto per imparare l'italiano standard oppure a volte ti confondeva un po' le idee? Direi che a volte mi confondevo perché andando dal siciliano all'italiano era un po' difficile, le parole sono diversi e quindi anche oggi mi confondo. Ci sono parole che prima mi vengono in mente in siciliano e poi devo tradurre e pensare ok, in italiano questa parola cosa sarebbe? Ti senti come se fosse un pochino la tua lingua madre siciliano o comunque la tua seconda lingua madre? Un po' sì. Ci puoi un esempio di una parola siciliana che ti viene immediatamente in mente al posto di quella italiana? Per dire travagliare, ecco. Bravissima! Per dire lavorare e travagliare. Lavorare e travagliare. È fantastico, immagino che tanti ascoltatori e ascoltatrici di origine siciliana probabilmente abbiano lo stesso tuo meccanismo, però al tempo stesso avevi già un po' un'idea di come fosse l'italiano grazie al dialetto. Sì, sì, mi ha aiutato anche, però il siciliano, avere quella conoscenza mi pare che è qualcosa bellissimo, sapere il dialetto. Assolutamente. Senti, dicevi che i tuoi nonni sono venuti in Australia, quindi mamma e papà sono già nati in Australia. Sì, sì, mia mamma era nata a Sydney e mio papà qui a Melbourne. Ok, e loro tra di loro e con voi figli parlano italiano o inglese o siciliano? Mia mamma parla il siciliano a volte, non l'italiano, però mio papà l'inglese, lui non parla tanto l'italiano. Quindi tu quando hai iniziato a studiare l'italiano? Ho studiato quando ho iniziato la scuola superiore, quindi nel 2017, e da lì ho continuato, quindi ormai sono stati quasi otto anni che lo studio. E all'elementare invece hai studiato altre lingue? Il giapponese, quindi un bel mix. E poi anche alla scuola superiore ho studiato anche un po' di indonesiano. E ti sei un po' appassionata alle lingue in generale, non soltanto l'italiano? Sì, sì. All'università studio anche il francese, quindi mi piacciono le lingue. Poi voglio anche andare a studiare il greco, nel futuro. Sei mai stata in Italia? Mai. Mai, nonostante tu abbia, come dire, delle radici molto forti legate alla Sicilia? Vorrei andare forse l'anno prossimo, però presto vorrei andare. Credo che anche chi è all'ascolto vorrebbe dirti congratulazioni, perché il tuo italiano è veramente eccezionale. E pensare che tu non sia mai stata in Italia veramente stupisce, perché sei così sciolta. Per cui, devo dire, è un premio meritatissimo quello che ti conferirà la Società D'Antelieri di Melbourne. Parliamo appunto di com'è stato studiarlo al liceo, alla high school. Ti sei trovata bene? Quali sono state le difficoltà principali? Allora, le difficoltà principali forse è un po' la grammatica, perché imparare la grammatica di un'altra lingua straniera è difficile. Specialmente all'inizio, però, perché io ho avuto la possibilità di praticare l'italiano a casa, quindi poi mi è venuto un po' più naturale, cioè, era meglio. Eppure con il siciliano a volte mi confondevo con le parole. Ok, però insomma direi che hai fatto un ottimo lavoro. E poi, proseguendo, lo studio dell'italiano all'università, che cosa hai imparato in più, magari? Cioè, c'è un modo diverso, un approccio diverso rispetto all'insegnamento dell'italiano? Hai approfondito, magari, degli aspetti nuovi? Direi che all'università c'è più opportunità di parlare l'italiano in classe. Di solito, durante la classe, parliamo soltanto in italiano, quindi questo è un vantaggio. Che al liceo non facevamo tanto, ero più un inglese e poi a volte... Un pochino l'italiano in mezzo, insomma. Sì, quindi direi che questo era il vantaggio che ho... Principale. Sì. Senti, invece, una cosa che magari fai tu nel tuo tempo libero anche per continuare a migliorare il tuo italiano? Sì, mi piace ascoltare la musica italiana e pure guardare dei film o dei video anche su YouTube. Infatti ho fatto questi per migliorare il mio italiano durante il liceo. Ascoltavo sempre la musica italiana, guardavo dei film o le serie televisive. Quali musicisti o cantanti italiani ti piacciono? Adoro Elodie. Eppure ascolto un po' di Coet, Baby K e Annalisa. Quindi impari anche, come dire, delle espressioni gergali italiane molto recenti, il slang italiano. Sì, sì, c'è tanto slang. Eppure su YouTube, guardo anche Louis Sal, fa delle video su YouTube un po' comedici. Comici? Comici, sì. Comici, sì. Capito. Non lo conosco, tra l'altro, è un italiano. Un italiano a Bologna. Ok, quindi ti aiuta proprio a imparare l'italiano contemporaneo. E invece leggi libri in italiano? No, non ho mai letto dei libri in italiano prima, però questo semestre all'università abbiamo iniziato a leggere un racconto che si chiama Margherita Dolcevita da Stefano Benni. Bellissimo, bellissimo. Cristina, tu riceverai questo premio proprio nell'ambito della cerimonia che terrà la Società Dante Alighieri di Melbourne ed è un premio con un titolo lunghissimo. Ce lo puoi spiegare tu? Lo buon inglese? Certo. Ok. Ti aiuto poi eventualmente per tradurlo. Overall performance and commitment to Italian studies and for role modeling a positive attitude to learning a new language and culture. Sì, assolutamente posso tradurre solo in parte il fatto che ti premiano proprio per il fatto di essere un punto di riferimento, un role model per il fatto di aver imparato così bene l'italiano. Allora magari mandiamo un messaggio a chi è all'ascolto, magari persone che sono ancora alla scuola superiore o comunque che sono ancora molto giovani e che non sanno ancora se cominciare a studiare l'italiano. Un consiglio che puoi dare loro? Cosa ti ha portato il fatto di imparare l'italiano? Io direi a quegli studenti di farlo, assolutamente. Imparare l'italiano è una lingua bellissima e uno consiglio a loro direi di ascoltare la musica italiana, di guardare dei film o delle serie televisive perché specialmente quando non si ha la possibilità di parlare a casa o con gli amici, facendo quelle cose ti aiuta ad espandere il vostro vocabolario, imparare nuove parole, insomma ti aiuta. Assolutamente, congratulazioni, sei veramente bravissima. Quando andrai in Italia hai qualche piano? Vorrei fare un giro per tutta l'Italia, però specialmente in Sicilia, vedere dove sono cresciuti i miei nonni. Enna mi dicevi, vero? Fuori onda. I miei nonni materni vengono da Nistoria, provincia di Enna, e poi mio nonno paterno da Messina e mia nonna paterna da Trapani. Quindi siciliana al cento per cento, siciliana da Australia. Grazie ancora Cristina, è stato un piacere conoscerti, congratulazioni. Grazie, grazie a voi per avermi qui. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.